oggi un tutorial carinissimo un poncio da bambina diciamo che come misure siamo sui cinque anni anche come come altezza del poncio ma possiamo realizzarlo anche per noi basta prendere la nostra circonferenza della testa e calcolare le maglie con un campione e fare l'avvio che è lo stesso per cui quello che determina poi la misura è quanto riguarda lo scollo io ho preso la circonferenza di mia nipote che è 51 di circonferenza di testa però nel frattempo che io ho avviato fatto il campione ma ho avviato le catenelle l'ho tirate leggermente perché sarebbe venuto uno scollo troppo troppo grande infatti è meglio sempre farlo leggermente più piccolo ma poi deve passare dalla testa per cui essendo elastico allora l'ho fatto leggermente più piccolo di 51 risulta ma tirando tutte le nostre catenelle sono arrivata a 51 centimetri poi ho fatto leggermente uno scollo qui ho ripassato con una maglia a rilievo un avanti e una dietro ho fatto il nostro punto ho concluso con queste foglioline e ho messo le frange possiamo realizzarlo ripeto anche per noi per cui prendiamo la circonferenza la nostra testa diciamo sempre una media 55 e 56 centimetri o chi 54 insomma poi prendete la vostra misura facciamo il nostro campione determiniamo le catenelle di avvio e il gioco è fatto il poncio viene sicuramente ovviamente più grande no allora adesso prendiamo subito il filo l'occorrente vi faccio vedere e iniziamo il tutorial il filato che ho scelto è il gomitolone il pop sono 500 grammi veramente un gomitolone grandissimo il colore è il malva sono 1500 metri e consigliano l'uncinetto dal 3 al 4 e i ferri dal 3 e mezzo 4 è un agrilico al 100% e questo è il color malva uncinetto 4 adesso che vediamo il poncio da vicino dobbiamo semplicemente prendere la circonferenza della della testa della bambina che vogliamo realizzare il nostro poncio questa è una misura per cinque anni è perfetto la circonferenza della testa sono di 51 centimetri che corrispondono a 72 catenelle sul mio campione allora adesso voi prendete la circonferenza in base a quello voi vi regolate per l'avvio del nostro poncio poi per il resto ci sono sempre gli aumenti facendo gli aumenti possiamo renderlo diciamo ampio quanto vogliamo se lo vogliamo realizzare per noi prendiamo la nostra circonferenza per esempio 55 56 centimetri prendiamo le nostre il nostro campione che abbiamo realizzato 10 per 10 e così possiamo trovare quante maglie di avvio abbiamo le nostre catenelle e possiamo iniziare il nostro poncio perché tanto l'avvio uguale per tutti non cambia sia per una bambina sia che per un adulto non cambia assolutamente niente che ci sono gli stessi aumenti semplicemente poi arriveremo a farlo più ampio questo dipende poi dalla dallo scollo del nostro poncio allora iniziamo con il tutorial per avviare il nostro lavoro dobbiamo avviare 72 catenelle per una circonferenza di 51 centimetri della testa sono 72 catenelle se volete comunque cambiare la misura che avete una misura diversa da 51 centimetri ricordatevi che ci serve un multiplo di 4 per cui poi fate il vostro conteggio in base aumentate 1 2 maglie in base a quanto vi occorrono per essere poi divisibile per 4 allora adesso ho avviato ovviamente faccio un campione così anche più facile ho avviato 72 catenelle vado a chiudere a cerchio in questo modo avvio 1 2 e 3 catenelle adesso vado a lavorare tutte maglie alte per ogni punto disponibili vado a lavorare tutte maglie alte in questo modo adesso che ho lavorato tutte le maglie vado a chiudere a cerchio con una maglia bassissima 3 catenelle 1 2 e 3 lavorato le prime 3 catenelle entro sullo stesso punto ancora due maglie alte con in totali sono 32 catenelle 1 e 2 e ancora 3 maglie alte sempre sullo stesso punto in totali sono sei maglie alte con due catenelle di separazione in questo modo adesso vi consiglio di mettere un marcatore proprio nella parte opposta a dividere in due le nostre maglie proprio perché dalla parte opposta noi dobbiamo fare l'aumento adesso che abbiamo fatto 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte sulla stessa maglie 2 catenelle prendo il filo e vado con 1 2 3 e 4 il lavoro una maglia alta e lavoro una maglia alta 2 catenelle prendo il filo sullo stesso punto di nuovo una maglia alta per cui è un punto a bo con due catenelle di separazione quanto ancora 1 2 3 e 4 maglia alta 2 catenelle e di nuovo in questo modo come vedete dobbiamo arrivare al centro cui prosegue ancora 1 2 3 e 4 maglia alta sempre maglia alta con 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo maglia alta sempre sullo stesso punto ecco qui adesso conto come vedete io già sono arrivato al centro io ho fatto pochissime maglie per cui so che il centro è questo adesso conto 1 2 3 e 4 qui noi abbiamo concluso perché siamo arrivata al centro voi avete il vostro marcatore vado a fare 2 catenelle perché devo sono arrivata al centro 1 2 3 4 qui 2 catenelle perché il nostro aumento vado a realizzare 3 maglie alte 2 catenelle e ancora 3 maglie alte proprio sempre sulla stessa sulla stessa maglia ora vi faccio vedere da vicino per cui quando arriviamo dalla parte opposta sempre al centro dobbiamo realizzare 2 catenelle noi abbiamo messo il nostro marca punti e andiamo a realizzare 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte di nuovo 2 catenelle questo è il nostro aumento a per cui non dobbiamo dobbiamo sempre fare le due catenelle vado a contare 1 2 3 e 4 prendo il filo e di nuovo punto v maglia alta 2 catenelle e maglia alta sullo stesso punto sullo stesso punto conto 1 2 3 e 4 entro sempre nella quarta maglia alta 2 catenelle maglia alta 2 catenelle entro sempre sullo stesso punto e maglia alta ancora 1 2 3 entro nella quarta fatto una maglia un po più lunga comunque allora in maglia alta adesso che realizziamo l'ultimo passaggio sempre 4 e vado a lavorare sempre il mio punto av con due catenelle 2 catenelle 1 e 2 conto 1 2 3 e questo è il quarto entro e realizza una maglia bassissima in questo modo mi sposto lavorando le maglie bassissime l'ultima entro proprio nell'archetto ancora maglia bassissima 3 catenelle e abbiamo iniziamo un altro un altro giro allora prendo il filo e lavoro le mie tre maglie alte cui sono 1 2 3 e 3 catenelle sono contano come punto realizzo 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte ora 2 catenelle sempre 2 catenelle perché è sempre il nostro aumento vado a prendere il filo entro dentro alla v la prima maglia alta e realizza una maglia rilievo e la chiudo ora sono 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle e di nuovo 1 2 e 3 abbiamo realizzato 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte proprio dentro al punto avv ora prendo il filo entro nella del questo punto av prima e seconda maglia entro nella seconda maglia maglia rilievo e la lascio sospesa e mi trovo due asoline prendo il filo entro nella questo è il punto avv successivo prendo la prima maglia sempre a maglia alta o tre asoline prendo il filo e chiudo adesso prendo il filo e di nuovo realizzo prima seconda terza maglia alta e 2 catenelle sempre nello stesso archito ancora 3 maglie alte la prima la seconda e la terza di nuovo dobbiamo fare le maglie alte a rilievo prendo il filo entro eccola qui questo è il punto avv entro nella seconda del punto avv io mi riferisco del punto avv e lo lascio in sospeso mi trovo due asoline prendo il filo entro in quello successivo la prima maglia del punto avv mi trovo tre asoline prendo il filo e chiudo di nuovo sono tre maglie alte e 2 catenelle e 2 catenelle prendo ancora 3 maglie alte sempre sullo stesso punto del punto avv prendo il filo entro a realizzare una maglia rilievo ma non la devo fare con quella successiva perché qui c'è l'aumento questa è la parte centrale del poncio proprio la parte centrale no quella avanti e quella dietro aumento due le catenelle che andiamo a realizzare entro dentro dentro al ventaglio realizzo la mia parte centrale che sono tre maglie alte se la prima se la la prima seconda e la terza 2 catenelle entro sempre nello stesso punto del ventaglio la parte centrale ancora 3 catenelle 3 maglie alte eccole qui ripeto perché 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte questa è la parte centrale prima ci deve essere sempre 22 catenelle e anche qui 2 catenelle però qui noi abbiamo fatto una maglia rilievo e non l'abbiamo poi ripresa come abbiamo fatto in questo caso allora adesso noi prendo il filo e vado a realizzare subito una maglia rilievo dopo aver fatto le due catenelle per cui come abbiamo fatto all'inizio facciamo anche alla fine e vado a realizzare le mie tre maglie alte 2 catenelle e le nostre tre maglie alte vado a realizzare quella rilievo come una diminuzione a cui vado a prendere il filo e non lascia in sospeso prendo il filo vado in quello successivo e lascia in sospesa tre asoline sull'uncinetto prendo il film chiudo di nuovo faccio sempre la stessa cosa fino ad arrivare alla fine sono arrivata al termine del giro vado sempre realizzare la mia maglia rilievo e vado a chiudermi proprio adesso qui con una maglia bassissima alla prima maglia alta e chiudo ora di nuovo mi sposto sempre con le maglie basse vado a lavorare sempre le maglie bassissime entro dentro all'archetto maglia bassissima di nuovo 3 catenelle ed inizio tutto il giro il giro da capo allora quando abbiamo realizzato di nuovo le 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte la parte centrale vado sempre a fare le 2 catenelle sempre adesso devo rifare i nostri i nostri punto av la realizzo subito nella nelle prime due maglie sottostanti che ho di catenelle vedete queste sotto prendo il filo le vado a realizzare subito una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta questo perché sempre il nostro aumento perché dobbiamo dobbiamo crescere vado sul punto successivo e di nuovo qui al centro realizzo il mio punto av per cui vado a realizzare il mio punto av proprio nel centro del ventaglio e lo ripeto anche qui il punto av dove ci sono le due catenelle per cui rientro nel 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 nostro ventaglio maglia alta 2 catenelle e maglia alta punto successivo uguale la stessa cosa 2 catenelle e maglia alta adesso che ci troviamo qui non devo fare le due catenelle ma qui devo fare il mio punto av proprio nelle due catenelle vedete questo il ventaglio di il centro come potete mettere un marca punti se non lo riconoscete all'inizio vado a realizzare la mia maglia alta 2 catenelle maglia alta e qui dobbiamo fare le due catenelle 1 e 2 ripeto sempre che alla parte centrale che è questa qui ci sono sempre le due catenelle sempre ne dobbiamo lavorare prendo il filo e vado di nuovo a realizzare il mio dettaglio che è composto da 3 maglie alte 2 catenelle alla sequenza è sempre la stessa quando poi riprendiamo a lavorare i punti con ci sono i punti a rilievo diciamo creiamo le nostre foglioline e dobbiamo fare la stessa cosa lavoriamo il nostro punto av qui vi ricordo sempre 2 catenelle 1 e 2 e qui facciamo il nostro punto av il resto rimane tutto uguale non non cambia nulla veramente molto semplice dobbiamo soltanto ecco regolarci che quando facciamo la maglia rilievo la prima maglia sarà rilievo ma anche l'ultima vedete perché rimane questa questa regina che c'è centrale è semplicissimo ripetete i passaggi è veramente molto facile basta ripetere i passaggi e ora delle maglie a rilievo e si ripete tutto da capo sono due giri da fare non ne sono di più è un punto che già abbiamo realizzato con la borsa la borsa star il cappello star che è un pochino diverso ma il lo scaldacollo per cui è un punto che già conoscete ma così potete anche realizzare il poncio insomma è semplicissimo ricordatevi sempre lo ribadisco le due maglie alle due catenelle dalla parte centrale che è questa le due catenelle io lo ripeto continuamente perché poi dopo rischiamo di non di non avere l'aumento ecco qui ho terminato per quanto riguarda la misura per me va benissimo ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 foglie diciamo 7 giri di foglie complete e alla lunghezza di 27 centimetri qui sulla spalla vediamo dalla spalla in giù sono 22 centimetri a una larghezza partendo dalla parte più larga di 47 per me è perfetto e anche perché voglio aggiungere un pochino di frange per lei per rendere un pochino diverso e poi farò un giro per quanto riguarda qui al bordo a rilievo con una maglia rilievo davanti e una di dietro leggermente per chiudere per chiudere un po però senza fare sicuramente senza fare diminuzioni perché per quanto riguarda il passaggio della testa è perfetto allora adesso vado a prendo il filo e iniziamo a mettere le frange allora per realizzare le frange mio solito tappetto perché come misura io credo che va bene sono anche abbastanza lunghe poi posso accorciarle ulteriormente vado sempre a passare il filo fino arrivare a fare un po di giro vado a tagliare così ho la misura delle frange una volta che ho fatto un po di giri vado a tagliare così ho la misura la misura perfetta eccola qui dobbiamo semplicemente decidere quanto quanto vogliamo cicciotte le nostre io direi ne prendo ne prendo quattro voglio provare insomma con quattro bello cicciotto devo fare una prova proprio qui al centro le vado a passare ecco qui si metterò sicuramente quattro piace belle perché tanto non le metto su le metto soltanto sul diciamo sulla fogliolina preso un uncinetto più grande ecco qui proseguo per tutto il giro poi se vogliamo possiamo metterle anche qui al centro se vogliamo renderlo più pieno ora provo così se vedo che è troppo diciamo non proprio ricco possiamo metterli anche al centro adesso faccio una prova e vediamo ecco qui ho messo tutte tutte le frange però stavo facendo un piccolo bordino lavorando una maglia presa rilievo avanti una maglia ripresa dietro allora io non è insomma non c'è bisogno di di farlo però sinceramente credo che rifinisce un pochino di più il collo anche se non va proprio stringere perché comunque è abbastanza abbastanza elastico in questo modo per cui non c'è problema per quanto riguarda la misura per cui vado a prendere una maglia alta rilievo avanti e una maglia a rilievo dietro finito tutto il bordo del nostro il nostro scollo vado a chiudere con una maglia bassissima e poi taglio taglio il filo allora adesso vado a nascondere il filo bene dietro e abbiamo realizzato il nostro scollo leggermente più alto se voi volete potete realizzarlo anche più diciamo più alto ancora però a me piace così non lo voglio troppo troppo alto anzi lo voglio in questo modo mi piace di più allora queste sono le frange che vado a sistemare bene eccolo qui allora il piccolo poncio è finito anche diciamo un coprispalle perché non è proprio un poncio grandissimo ma mi piace proprio per questo perché non è non è grande e poi a queste frange che lo rendono un po fruflu ecco io spero che il tutorial vi sia vi sia piaciuto ci vediamo per i prossimi tutorial il lunedì e venerdì sempre alle 9 seguitemi su instagram e per le anteprime le anteprime faccio sempre delle anteprime per quanto riguarda il tutorial ci vediamo ai prossimi tutorial baci